Danno un taglio al loro stipendio i sette consiglieri campani del Movimento 5 Stelle. Parte dello stipendio da consiglieri regionali servirà a finanziare le scuole del territorio. Dopo due anni e mezzo di mandato, la cifra accumulata corrisponde a quasi 500 mila euro. I soldi provenienti dalla decurtazione della loro paga servirà a realizzare la ricostruzione di laboratori di una scuola alluvionata nel Sannio e per l'acquisto di apparecchiature salvavita per l'ospedale Loreto Mare. Facciamo scuola il titolo dell'iniziativa annunciata nella sala stampa del Consiglio regionale della Campania da Valeria Ciarambino e Maria Muscarà. Noi ci tagliamo gli stipendi volontariamente dal primo giorno in cui siamo entrati in Consiglio regionale. La differenza tra noi e gli altri è questa. Mentre tutta la politica regionale di centro-destra e centro-sinistra è colpita da un'indagine per corruzione dove probabilmente soldi pubblici sono finite come mazzette nelle tasche di politici in cambio dell'assegnazione regolare di appalti per lo smaltimento dei rifiuti il Movimento 5 Stelle si taglia gli stipendi. Oggi vedrete l'assegno di tutte le restituzioni messe da parte fino ad oggi. Siamo a 495 mila euro. Di queste una parte è già stata destinata ed utilizzata per una scuola alluvionata di Benevento e per attrezzature dell'Oreto Mare. Oggi destiniamo 255 mila euro ad almeno 25 progetti per le scuole secondarie della Campania. Le scuole campane, alcune delle quali hanno anche rischiato di chiudere perché non si riusciva a pagare neanche la bolletta elettrica, sono dal punto di vista statico e dal punto di vista della struttura assolutamente pericoloso. Parliamo di luoghi ai quali affidiamo il bene più prezioso che abbiamo, che sono i nostri figli. Il governo dovrebbe avere cura del futuro. Il 4 marzo gli elettori entreranno nelle scuole. Entreranno nelle scuole e vedranno le condizioni in cui vengono accolti i propri figli e potranno decidere per il meglio se continuare a sopravvivere e a galleggiare nella speranza che non succeda nulla, che non cada l'intonaco o che un terremoto non faccia crollare una scuola o fare scelte diverse.